Dopo Inam e Tuple andiamo a chiudere questo capitolo di basi, quindi andiamo ad appropriarci di tutti gli elementi basilari, tutti i blocchi minimi del mondo di TypeScript per poi andare a vedere come configurare un progetto. L'argomento in questione sono appunto le interfaces e le interfaces come vedremo sono abbastanza simili ai types, poi andremo a vedere di per sé cosa cambia da un tipo di dichiarazione a un'altra, ma andiamo subito a dichiararne una. Andiamo a definire che abbiamo la nostra interface, chiameremo user, apriamo le parentesi graffe, diciamo che ha un nome che è una stringa e poi possiamo dire banalmente che ha una mail che a sua volta è una stringa. Se andassi a creare uno user chiamandolo appunto user e solo sta piangendo uno perché non ha i types al suo interno, ma potremmo anche andare a fare questo trigo, quello che ci dice è che giustamente mancano degli elementi. Quindi andiamo ad aggiungere come nome Mario e come mail ci mettiamo mchiocciola m.it, tanto non è così importante, uno dirà vabbè ma io a sto punto posso andare a fare type, ci aggiungo un bel uguale e siamo allo stesso punto. E effettivamente di per sé ha ragione e infatti type e interface sono molto 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 simili, sono quasi comunque la stessa cosa, possono essere utilizzate diciamo quasi per le medesime dichiarazioni e definizioni di type. Ma torniamo alla nostra versione con le interfacce. Cosa possiamo vedere se lo osserviamo con un po' più di attenzione? Che si avvicinano più o meno a quella che è la dichiarazione di una classe. Attenzione che però questo non ci dice niente di come questa vada implementata, ci dice che questo elemento può avere appunto questi parametri e può avere inizializzati magari dei metodi. Mettiamo caso che io volessi appunto avere il login che è un metodo magari non obbligatorio, vado ad avere una funzione che magari vabbè ritorna a quella che può essere una stringa. Ora io qua non ce l'ho definito, non mi serve, però andando a definire vado a dire che c'è login che banalmente ritorna quello che è login, perché deve ritornare quella che è una stringa. Quindi questo non va a dirci appunto come funziona la nostra interfaccia di utente, sa solo che deve avere dei parametri e appunto inizializzato quello che è un metodo. Volendo possiamo andare appunto a definire logout dicendo che magari questa volta deve prendere quello che è un param, diciamo che di tipo stringa, e ritornare magari in maniera stupidissima anche qua una stringa. Dobbiamo metterlo non obbligatorio, è un po' strano questa scrittura ma è per farvi vedere un'altra alternativa e adesso ne andiamo a dichiararci quello che è il nostro metodo di logout. E vado a dire che deve ritornare logout. Io qua posso scrivere anche Gianni, ok? Non sono obbligato a scrivere param, devo solo poi far sì che quando appunto questo metodo verrà richiamato io debba passargli quella che è una stringa. Occhio che se io appunto andassi a rimuovere questo parametro vedete che lui comunque non piange in nessun modo e quando poi vado a chiamarlo qua devo andare prima a controllare che esista user.logout Prima di andarlo a chiamare perché abbiamo detto che potrebbe essere undefined user.logout Allora appunto esistesse noi andiamo a chiamare il nostro logout lo andiamo a scommentare e diventa un pochino ambiguo perché io posso definirlo senza nessun parametro però poi lui comunque vuole un parametro quindi diventa abbastanza ambiguo nella sua definizione. Ovviamente poi posso andare a passare tutte le tipologie di definizioni che abbiamo visto per i type, quindi se voglio dire che questo è read only ed è il solito id io poi vado a definirlo, ho possibilità di fare appunto esattamente le stesse cose che posso fare nei type. Un qualcosa che sicuramente ci permette di differenziare questi elementi, se io appunto avessi questo elemento che è un type di user quindi lo definissi come type user2 diciamo e ci si che è uguale a questo. Ecco, a questo punto se io volessi estendere quello che è il mio type devo andare a dire che type user3 è uguale a user2 e poi vado a dirgli che appunto ha al suo interno google id che appunto è una stringa e in questo modo vado ad estendere il mio oggetto. Con quelle che sono le interfacce io posso andare a estendere in una maniera un pochino più dichiarativa. Posso andare banalmente a riscrivere quello che è il valore dell'interfaccia, quindi dire che interface user. Posso andare a riprire le parentesi, come vedete non mi segnala nessun errore e vado ad aggiungere quello che è il google id. Mi viene segnalato un errore e allora vado ad aggiungere quello che è il google id. Ecco, in questo modo io posso andare a riscrivere l'interfaccia in una maniera un pochino più veloce, più simpatica. Uno qua dipende, ci sono pregi e difetti di questa scrittura. Sicuramente questa è un pochino più macchinosa, però all'occhio io vedo che sto estendendo un'interfaccia ed è molto chiaro quello che io stia estendendo. In questo modo invece posso estendere un'interfaccia a quasi in qualsiasi punto del codice. Quindi è un pochino più bella, nel senso che è semplice da utilizzare, però è un pochino meno dichiarativa. Poi devo andare a riprendere dove è user, magari da un'altra parte l'ho estesa, poi devo riestendere un pochino un casino. Quello che ci porta a risolvere questo problema per andare a creare, diciamo, quello che è questo tipo di comportamento, viene dato da quella che è la proprietà dell'eredità, dell'ineritance, che è la stessa un pochino del classico. Vedete, come dicevamo, le interfacce si comportano un po' come le classi. Se appunto io avessi qua interface admin, io posso andare a dire che estende quella che è l'interfaccia di user e si porta dietro quello che è il valore di ruolo. Uno va a dargli ruolo. Posso estendere più interfaccia, appunto, se io qua avessi l'interfaccia, chiamola anche questa qua admin, facciamo così, admin, che non estende niente, ha semplicemente role di string. Se io voglio andare a creare quella che è l'interfaccia di super admin, super admin, io vado a dire che il mio super admin estende user e admin. In questo modo, se io andassi appunto a, lui qua non ha role, ma a, diciamo, is super admin boolean, mettiamola, forziamo addirittura a true. Se io qua vado a definirlo come super admin, io qua devo andare ad aggiungere quello che è il valore di role, dicendo che appunto è un admin e il super admin ma true. E lui va a estendere completamente questa interfaccia partendo appunto da altre due interfacce. Quindi queste sono principalmente le differenze tra i type e le interfacce. Quindi le interfacce assomigliano molto ai type e soprattutto anzi i type assomigliano molto alle interfacce perché sono arrivate prima le interfacce. E diciamo che le principali differenze sono nel metodo di riscrittura. Un type una volta definito non può essere descritto come invece può essere riscritta o comunque estese in maniera molto veloce un'interfaccia. E' il modo in cui si estende un type, si genera un nuovo type, è differente, ha delle parole chiavi differenti. Banalmente qua abbiamo quello che è un end operator mentre con apra la chiave di extends. E questo avvicina molto le interfacce a quelle che sono i comportamenti e le proprietà di una classe. E' bene ricordarsi poi che di per sé le interfacce non vanno in nessun modo a dire come si comporta poi la classe o l'oggetto che va a implementare la nostra interfaccia. Va semplicemente a dire cosa debba essere definito e cosa no. Poi come essi si comportano sta a noi. Infatti questo l'abbiamo visto nella scrittura appunto di questo metodo di logout dove io posso andare anche a togliere nel momento in cui vado a implementarlo quello che è un parametro che ho marcato come obbligatorio in questo punto. Lui comunque poi ritrova una stringa e quindi il metodo si comporta come previsto. Lui non interessa poi nell'astrologica come si comporta, basta che esista e che ritorni il type di cui abbiamo bisogno. Grazie. Grazie.